Le novità sono veramente tante. In generale, fatemi dire, è creare un servizio completo a 360 gradi per chi vuole muoversi per turismo in treno. Dal 9 giugno in Toscana arrivano nuovi collegamenti in treno per le mete turistiche estive, mare, montagna e città d'arte. Con il nuovo orario estivo, il Frecciarussa Notturno collegherà la Toscana, la costa tirrenica fino a Reggio Calabria. La novità dell'estate sarà il collegamento intermodale Argentario-Link, che consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano. Inoltre, fino al 1 settembre sarà possibile raggiungere le 5 terre direttamente da Arezzo e dal Valdarno, con una coppia di treni attiva nei giorni festivi tra Arezzo e Sestri Levante. Treni completamente dedicati, tailor-made potremmo dire, sulle esigenze del turista. È tornato lo scompartimento a 4 o a 6 posti, la carrozza ristorante con il pasto servito al posto e la cucina con la preparazione a bordo, soprattutto il grande bagagliaio dove ciascuno andando in vacanza potrà mettere i colli ingombranti, il gommone, gli sci d'acqua. Insomma, è veramente il momento in cui possiamo dire, con treni turistici italiani del Polo Passeggeri, la vacanza inizia salendo in treno.